Guardi, all'interno di questa associazione so che ci sono altre storie, che però nessuno ha mai denunciato e non so se lo faranno. Però il consiglio che mi sento di dare è che bisogna denunciare. Annunziata Orefici ha trovato forza e coraggio per denunciare una vicenda molto triste che l'Associazione Codici, presente il segretario regionale Giovanni D'Andrea, ha preso a cuore facendola conoscere all'opinione pubblica. In sostanza, la signora annunziata, dopo aver lavorato per circa 20 anni alle dipendenze dell'ente nazionale Sordi, ha dovuto subire un periodo di comportamenti vessatori da parte dei dirigenti dell'ente, culminato con il licenziamento a partire dal 1 gennaio 2023. Due, le sentenze esecutive del Tribunale di Chieti ha lei favorevoli. Nella prima viene riconosciuto il lavoro subordinato della lavoratrice, nella seconda si riconosce che il licenziamento è nullo per motivi ritorsivi, come riconosce Valerio Speziale, legale della signora. Queste due sentenze accertano come il diritto del lavoro serve proprio a questo, cioè a tutelare la donna in situazioni in cui viene vessata, con danni anche alla salute perché la sentenza ha riconosciuto un danno biologico a carico della lavoratrice e soprattutto penalizza il comportamento di un ente che ha licenziato per ragioni ritorsive una lavoratrice, non per ragioni economiche come aveva invece affermato nella lettera del licenziamento. Ci sono dei tempi? Teoricamente tutto dovrebbe venire molto rapidamente ma fino adesso l'ente non ha, diciamo, ottemperato alle due sentenze, noi stiamo insistendo, adesso vedremo che cosa accadrà. L'ente nazionale Sordi ha già fatto sapere che impugnerà le sentenze, rimane il fatto che si tratti di una vicenda complessa ed emotivamente non facile da superare. Ci sono nata all'interno di questo mondo, ci sono cresciuta e quindi emotivamente è stata la cosa più difficile da superare e che non ancora supero perché sono seguita da psicologi, come ha detto prima il mio avvocato, il professor Speziale, e credo che, non so se riuscirò mai a poter definire e dire veramente l'ho superata, però ringrazio tante tante persone, soprattutto tanti sordi che mi sono stati vicini. La giustizia le ha dato ragione, adesso che cosa si attende? Poi sarà, presumo, anche un po' difficile tornare al lavoro. La fede e la fiducia anche nella giustizia è stato per me avere un riscontro veramente che mi ha portata ad essere così forte da addirittura fare questa conferenza stampa, proprio perché non è possibile che tutte queste vicende rimangano all'oscuro dell'opinione pubblica e proprio perché, avendo una sentenza che deve essere reintegrata nel posto del lavoro, è difficile e quindi a maggior ragione doveva emergere questa storia.